Salve a tutti, mi è capitato, ne volevo parlare giusto così due minuti veloci, di vedere poco fa un video di Renzi che diceva che gli italiani, cioè per digitalizzare la moneta, bisogna che i soldi che gli italiani hanno nascosti sotto il materasso, i contanti, bisogna tirarli fuori. Allora ha detto, una geggia in inglese, lui lo sa l'inglese molto bene, Italia 1, ha detto vabbè gli facciamo in modo che queste persone tirino fuori i soldi, ci prendiamo il 10-15%, non li mandiamo in galera, così rimettiamo in giro qualche milione di euro, cioè, o Renzi, ma come ti viene in mente? Cioè, vi rendete conto a che punto siamo? Vi rendete conto a che punto siamo? Vi vogliono prendere i soldi dai conti correnti? Colacao, che già abbiamo 900 parlamentari, eccetera, ha fatto un gruppo di altre 400 persone per scrivere un rigo a testa, praticamente, e dire un sacco di minchiate, tolto il fatto che vogliono regalare oro, vogliono regalare servizi statali, vogliono regalare... Cioè, ma che state a fare? Vogliamo svendere l'Italia? Ci volete derubare di tutto quel poco che ci è rimasto? Dove vogliamo arrivare? No, perché, sai, detto da uno che, mentre ha fatto il sindaco a Firenze, si è mangiato letteralmente 6 milioni di euro, è entrato col PD, sono scombarsi 40 milioni di euro, niente da dire, sempre durante la crisi, già l'ho detto l'io scorso, si è fatto un aereo da 100 milioni di euro, adesso viene a dire che se uno ha qualche risparmio lo deve dare, cioè, tu sei un pazzo, cioè, tu in testa non c'è niente, a parte che gli italiani ti avevano tolto, cioè, proprio, tu non ti vogliamo più vedere, forse non hai capito, e in più ci viene a dire che ci vuoi riprendere anche gli ultimi risparmi che hanno gli italiani nascosti in maniera illegale, in maniera illegale cosa? Qui l'unica cosa, le uniche persone che stanno facendo cose illegali siete voi, voi al governo, voi, cari signori, siete lì, siete lì, per noi, noi siamo i vostri titolari, Invece voi avete un po' ribaltato le cose, cioè, non è così, non è così, attenzione ragazzi, eh, attenzione, io spero che gli italiani aprano gli occhi, attivino il cervello, perché, qui stiamo davvero, cioè, affondando, affondando, e questi che fanno? Eh, fanno altri buchi, così affondiamo prima, occhio ragazzi, e accendete il cervello,